Sì, se ne è parlato un po', poi per un po' non abbiamo più parlato e poi ieri sera mi sono riuscito dall'altra parte e abbiamo provato a chiudere questa trattativa e è andata bene. Tu qui hai tanti amici, il Musso, la vecchia guardia, per cui torni un po' a casa. Sì, diciamo che torno in un posto dove per me è stato importante e sono felice, è stata una scelta che abbiamo fatto e che volevo e quindi sono contento della scelta fatta e poi ritrovo tanti di loro, ci ho giocato, tanti fanno parte dello staff, quindi sicuramente sarò bene. È passato un po' di tempo nel frattempo, qualcuno ha cambiato ruolo, come anche Piero Bonno. Sì, qualcuno ha cambiato ruolo, sì è passato un po' di tempo, però con le persone il legame che c'era è rimasto, quindi è stato un piacere essere accolto così e spero di ripagare la fiducia con il Cesson. Anche per il Cittadella prendere Iori però significa voler fare quelle cose fatte bene? Credo che sia stata una scelta fatta sia da parte mia che da parte di Cittadella per provare a fare qualcosa, fare bene dai, poi dopo fare bene e vincere ci passa tanto. È chiaro che sarà un'annata importante dove bisogna cercare di riportare un po' di entusiasmo dopo un'annata un po' così e quindi ripartire subito col piede giusto per cercare di fare una buona annata. Un anno è fatto? Il contratto? Sì, un anno. Oltre ai tuoi ex compagni conosci qualcun altro per la rosa del Cittadella? Sì, vabbè, con Gerardi ci avevo già giocato, con Sgrignac ho giocato a Torino, con Pascali ci ho giocato a Carpe Nero, li conosco quasi tutti, quindi ho giocato un po' con tutti. E il mister? Il mister ci ho giocato contro, quindi sì perché lui era pizzighettone, poi è andato a Cremone, quindi ho avuto l'occasione di incontrarlo da avversario e ora sarà il mio allenamento. E l'hai battuto ai play-off con il Foligno? No, con il Foligno c'era Visoli, Pascali l'ho battuto solo, il mister c'era a pizzighettone e poi a Cremone. Cioè hai parlato assieme? No, sono arrivato oggi pomeriggio perché è stata una cosa che è nata ieri sera, subito dopo che ho risceso col Tisa ed è andata in Porto stamattina.